Tre mesi di lavoro per cambiare volto al litorale orientale di Salerno e aggiungere un altro tassello alla rivoluzione urbanistica immaginata a suo tempo dall'architetto Boigas, presentati questa mattina agli interventi per il ripascimento del tratto marittimo tra Mercatello e il polo nautico. Ad illustrare il programma, il governatore Vincenzo De Luca ha intenzionato ad esportare il modello Salerno della spiaggia in città anche a Napoli. Per il sindaco si tratta di una giornata importantissima. La spiaggia di Santa Teresa si prolungherà verso oriente con modalità di crescita del litorale assolutamente imponenti e con un arredo urbano che sarà di tutto rispetto. Infine è previsto il parco Dunale ed altre iniziative, insomma il rapporto di Salerno col mare è stato interamente recuperato e sarà rilanciato con una delle prerogative della nostra città. Nella stessa occasione è illustrato anche il progetto da 2 milioni di euro per rivoluzionare la viabilità del rione Petrosino che consentirà una volta ultimato di decongestionare il quartiere Irno. È un'arteria molto importante perché darà la possibilità di collegarsi direttamente alla tangenziale e fondamentalmente rientra in una sistemazione viare più complessiva che proseguirà con i lavori che sono inseriti nell'ambito del bando delle periferie che da lì, da via Fratelli Magnone poi condurrà direttamente nell'abitato di Brignano e quindi con 2 milioni di euro che sono le risorse che ha messo a disposizione la regione campana per questo tipo di intervento completeremo un'infrastruttura molto importante per il sistema della mobilità nella zona del rione Petrosino e via Irno.